Salve bella gente qui Gabby e benvenuti ad un nuovo episodio di Five Nights at Freddy's su Gmod Dove sono i mostri? Cioè sono qui nell'ufficio da solo, sto un po' cercando nelle varie stanze Oh aspettate sento qualcosa Eccoli! Guardate ci belli! Guardate! Stanno venendo a prendermi no! Ma cosa state facendo lì dentro? Sporcaccioni! E corri dal boni! Eccomi qua Dior! Ci vedi? Corri dal boni aiuto cambio subito telecamera non voglio più vedervi Mi sparo da qui! Non vale spararci eh non vale Allora io chiudo le porte e mi barrico dentro non voglio nessuno nel mio ufficio Ma tu non hai iniziato il tuo turno È vero ciao via via mostri Non ho ancora iniziato il mio turno della morte Infatti lo inizio adesso Stiamo fermi Stiamo fermi sì sì è vero Poi dovete essere i pupazzi morti Andate là insieme agli altri scusate Andate là ecco Anche io nello sto qua insieme alla mamma Che sei il figlio tu sei il figlio C'è quello grande un due metri e tu piccoli Fai meno paura tu Comunque ragazzi vi invitiamo a vedere il video su tutti e tre canali Così lo vedete al cento per cento Ecco sì ci sono tutte e tre Dalle tre prospettive di vita Ragazzi però lasciatemi due secondi per scappare Usatele Noi siamo delle brave persone Quindi Adosso No sto scherzando Ok nessuno Brava Foxy sulla Foxy Ma io ho paura che sti cosi fanno male a cannoe Eh lascia sta Coridan Preparati Tu hai gli occhi che prenderanno nel buio Guarda che roba Anche te Anche te Anche te Bellissimo Guardate come si divertono questi qua Perché sanno che l'unico che prenderà paura sono io Ma guardate come si fanno le tattiche per battere Ma ci vedi te Eccolo là Chiudo la porta subito Chiudo la porta Ma Foxy tira tipo tre botte poi se ne va Ecco bravo Oh mio Dio siamo Savonni Siamo Savonni Mamma mia il vero Bonnie C'è una destra e una sinistra Due Bonnie No no arrivati qua fuori con Bonnie C'è il mostro che chiede famintare che schifo Oh Dio Veramente che mostri di basso livello Non siete con i mostri di una volta Sto scappando Come stai scappando Dei mostri che scappano ragazzi Cioè dovrebbero Spaventare Ah sono io sono io Ma guarda Quasi quasi vi faccio entrare Ragazzi voi fatemi tipo da walkie tour Ma noi siamo contro di te Non contro Mi metto qua dentro Cercare di correre Oh mio Dio Sono morti Cos'è successo È falso Bonnie Vero Bonnie Senior Dov'è il Bonnie Vero? Bonnie Senior Aiuto Ho preso un colpo Mi sono girato il mio ufficio Stiamo passando Stiamo passando Stiamo di passaggio Andiamo via Fuori di qui Cioè ragazzi Loro fanno gli animatronics Avete capito Cioè non vogliono più stare con me Mi hanno tradito per diventare Parte di questo Ma no noi vogliamo che tu ti interessa Noi stiamo aumentando la tua esperienza Qualcuno Chica la vede in fondo chica Oh Uccidete da parte mia Qualcuno mi ha sparato È lui Io ho sparato chica Non te Ora prenderemo le pistole anche noi Ci faremo vendita Adesso ci vendichiamo Coridan Siete malvagi con le pistole Oddio Coridan dove sei? Sono via Sono scappato Sono via Ci sarebbe la mia mamma Lì Ah l'ho vista Che sta Ah è partita Ah No È partita Sono riuscito a vedere come Come stavate Appena ho messo il piede cuore È arrivata Foxy Vista Oddio C'è quello grano Chiudi 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 C'è Bonny lì C'è la mamma C'è la mamma Buongiorno Bonny La Bonny spaventata Questa è la nuova edizione Si chiama Five Nights at Freddy's Vietnam Mode Si spagna anche Non gli vuole Oh no C'è Freddy davanti Oh l'hai fatto comparire te Coridan Che sei scappato via C'è sai che a volte non capisco A volte non capisco Se sei quello vero o quello falso Ma perché non andiamo tutti e tre Voi andate avanti Facendo finta di essere gli animatronics Io mi metto dietro Esco poi alla fine Con il fucile a pompa Li faccio fuori Vieni ti faccio una scorta Vieni Andiamo Il giro del parco Le guardie notturne Oddio c'è la mamma qui C'è la mamma Guarda Questa sta buona Questa è un momento adesso Tranquilla Pensavo che avesse una pippa in bocca Invece è solo Lion ci sarebbe una sala Tipo dove poi si controllano gli animatronics Ci andiamo insieme Solo per vederla Ok Per farci un tour Bisogna premere V V V E poi stare molto attenti E quella con Freddy C'è un Freddy seduto sulla poltrona Quella arancione Ci sono Ci sono Ok Eccola qua Questa è la stanza dove si controllano Quindi in questa stanza Puoi fare proprio il bastardo sadico Che vada Nelle stanze che vuole Sì tu puoi praticamente Devi premere questo pulsante E poi una volta premuto Puoi decidere dove andrà Dove andranno Tipo se in questo momento Tanto per provare Coridan fosse nell'ufficio Vai ok Ho capito Sì ma qui Sì ma qui E io Io osservo un attimo Il pulsante di Foxy Io adesso volo un attimo No mi ha fatto Sono volato in faccia Foxy In free mode Sono morto Succederebbe che Coridan Troverà Ecco Sei morto tu Sono morto pure io Perché sono volato in faccia Foxy Ciao Comunque Io fossi in voi Starei attento Perché ho premuto Si muovono ora Ho premuto Foxy E guardatela Ho premuto Foxy Guardala Oddio sta scendendo Sta scendendo Chiudi 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 Apri apri Noi siamo muori Mi dispiace Io non mi riconosco Non mi riconosco Perché avete le tutte Degli animatronici Io non so Non vi credo Bastardo Comunque è anche tornata indietro No ma che sfiga Ma che sfiga Ti vendi un pugno Comunque ora possiamo andare A vedere il segreto Volevo vederli morire E andiamo a vedere il segreto Venite Aspetta là c'è Bonnie Ammazza Lo spara lì Mi sto sparando di tutto Granate Voglio sparare anche io Crossbow Ci tiro io Razzi esplosivi Granate Rocket Tanto non muore È il Godzilla Proprio Non muore Da qua Guardatelo E se tu entri Passi la finestra E si piazzi qua Vedrai che lui ha un computer E la leggenda narra Che questo sia il creatore di Five Nights at Freddy L'originale Che sta programmando Oddio è lui È morto È morto anche lui È morto mentre lo programmava Ma da qui sembra Jack di Lost Sembra Mamma mia È proprio un Lost però È agli occhi persi Agli occhi Lost Allora dobbiamo fermare la maledizione Bisogna distruggere il computer Che non programmerà mai niente È maledetto fino all'ultimo Non puoi distruggere Bastardo È uscito sangue quando gli ho sparato Guardate Sta qui Aspetta Fa la nina nanna Lui è seduto Sta cacando È lì che caga Hamburger Proprio nella cucina Chiudetelo Lui è un orso che merita Non bisogna far entrare gli orsi nei locali Però bisogna fare il mega finale Le mostri si vendicano E abbassiamo Gabbio ovviamente No Io corro Me ne vado No Madonna Mi stanno stuprando qui dentro Basta Con il rocket Oh Eh io stavo aiutando Stavo ammazzando Morita Morite tutti Morite tutti Ma moriteci Anche tu Freddi Non credere di Non poteva Non poteva finire peggio È degenerata nell'RDM puro E poi noi siamo quelli che insegnano Non fate RDM Poi guardateci In realtà Andateci in verità L'esempio Stavo degli schifosi Ok pace 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 Dai almeno per fine video Pace Pace Grazie E cazzo pace Ti ho visto sparare Non ci si può affidare di Lion Lo sapevo No ma ti ho visto sparare Pensavo che volessi fare di nuovo la guerra Sparavo i mostri veri Ma morisse mai Lion Ha un giubbotto antiproiettili sotto Ma che cazzo È la Neon Gun Bellissima Ma ti prego Dimmi come si fa È bellissimo Non ce l'hai te È una don È bellissimo Vabbè da Coridan Da Lion Da questi bastardi qua Che ci sparano Con il Nian Cut E tutto Noi speriamo che vi sia piaciuto E noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao ragazzi Lo sapevo E tanti così Oh no Oh 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 Ho cucchiato il gioco No devo rifarlo No dei nienti miei Non abbandonatevi Guardate Non potete cadere Adesso in battaglia Tornate su Tornate su Legni Legni Sì Oh Yeah Ciao